In un colpo solo il Teramo cresce in qualità della manovra, centra il tris di vittorie filate e approfitta dello stop della Iesina per rissarsi in vetta alla classifica in solitudine. Il capitombolo di Sant'Arcangelo di appena 20 giorni fa è solo un pallido ricordo. Il diavolo di oggi sa aspettare il momento giusto per poi piazzare i colpi letali. Il solito Arcamone doppietta è il trascinatore contro i malcapitati marchigiani. Il giovane Costa Ferreira rende più pingue il bottino, ma il regalo di giornata il Teramo più che farselo l'ha ricevuto dall'angolana. L'ex capolista Iesina capitola sotto i colpi di Napolano e D'Alessandro in una ripresa che i nerazzurri dominano anche grazie alla superiorità numerica per l'espulsione di Negro dopo nemmeno mezz'ora di gioco. L'angolana, grazie al lavoro del tecnico Daniele Amaolo, è ora una squadra vera, di colpo solida anche dalla cintola in giù. Il terzo colpaccio abruzzese del canistro impostosi senza nemmeno troppo soffrire sul campo del sempre più in crisi cesenatico. I rovetani confermano l'attitudine ad esprimersi meglio in trasferta. Decide la doppia protezza di Pasquale Berardi, centrocampista barese col vizio del gol. Prosegue la striccia positiva della Tessa Valdisangro, imbattuta da cinque turni. L'1-1 di Venafro si consuma nella fase centrale del primo tempo. Vantaggio ospite di Alterio, risposta molisana del Colored Keita. Non riesce a vincere da quattro turni il Miglianico, che con un trivento affatto arrendevole le prende e le dà. Finisce 3-3 tra rigori, espulsioni e reti annullate. Insomma, non è mancato nulla e la divisione della posta in palio è sostanzialmente giusta. Scivola e si fa male, un po' a sorpresa, la Sant'Egidiese. Uscire sconfitti da Civitanova Marche ci sta. Farlo con cinque gol sul groppone è però difficile da mandar giù. E pensare che i vibratiani avevano perfino messo il muso avanti, grazie alla pennellata di laboraggine. Poi il blackout. L'assenza di Leonardo in difesa pesa più del ritorno in campo, dopo l'infortunio di Andrea Bucchi in attacco. Che si sia trattato della classica domenica no, per quanto riguarda le altre, torna a vincere il Rimini, che liquida il Boiano, ancora corrente alternata alla San Benedettese, che ritrova il suo stadio e il suo pubblico, ma complice le consuete dormite difensive, è costretta a rimontare per raccogliere un punticino con l'altra riminese. E il presidente Spina pensa al mercato. Parità anche nel derby di Romagna tra Forlì e Sant'Arcangelo, mentre l'Agnonese continua a carburare, violando Fossombrone.